chi vincerà lo scudetto il Milan o l'Inter e quali spunti ci hanno lasciato le galli di ritorno delle semifinali di Champions e cosa dire della Liga dominata e vinta dal Real di Carlo Ancelotti per rispondere a queste domande che con me ci sono ciao Charlie ciao Gap, ciao a tutti ben ritrovati e ovviamente visto che parleremo di calcio spagnolo non potevamo non invitare Marco Roberti ciao Marco, bentornato ciao, ciao a tutti Charlie, allora sei seguendo i playoff di Serie C? Sì, ho seguito il primo turno su OneFootball dove ricordo tra l'altro si possono guardare tutte le partite al costo di tra le 99 l'una non sono però riuscito a seguire quelle di stasera perché purtroppo erano in contemporanea con la Champions avevo il dubbio tra Zeman e Guardiola ma alla fine ho scelto di vedere il secondo io invece domenica ho scoperto l'esistenza di una squadra che si chiama AZ Picerno e mi chiedo se AZ nasca da AZ Alkmar oppure ci sia dietro qualche altro motivo ho cercato su Google ma non ho trovato niente se qualche ascoltatore ne sa qualcosa per favore ce lo dica ricordo inoltre che sempre su OneFootball si possono guardare in questo caso gratuitamente alcune partite del campionato portoghese e di quello scozzese e tra l'altro sabato alle 19 c'è Benfica a posto e al posto basterebbe un punto per vincere il campionato di fronte ai tifosi rivali di sempre esatto se non si fosse capito anche questa puntata è sponsorizzata da OneFootball e se volete scaricare gratuitamente l'app potete farlo cliccando sul link che trovate qua sotto nella descrizione un altro campionato che si avvicina sempre più alla fine è ovviamente la Serie A mancano tre partite alla conclusione ed è ancora la lotta tra Milan e Inter molto molto aperta al momento il Milan ha due punti di vantaggio con 77 mentre l'Inter ne ha appunto 75 ciò che è successo nelle precedenti partite è il seguente noi avevamo parlato per l'ultima volta dell'Inter dopo la gara con la Juve che aveva vinto per 1-0 in maniera immeritata però quella gara lì ha dato un po' una scossa dal punto di vista mentale o meglio sembrava aver dato una scossa dal punto di vista mentale alla squadra di Inzaghi che poi nelle gare seguenti aveva giocato molto bene riproponendo in parte quel calcio molto bello e molto efficace che avevamo visto nella parte finale del 2021 aveva vinto meritatamente facilmente contro il Verona poi contro lo Spezia e poi anche contro la Roma poi però siamo arrivati a quella tanto attesa e tanto discussa gara di recupero infrasettimanale col Bologna l'Inter l'aveva approcciata bene poi però ha subito il gol dell'1-1 da parte di Arnautovic e lì è sembrata ricadere in quei problemi soprattutto mentali che già altre volte ha avuto in questa stagione e poi in pratica si è un po' spenta fino al clamoroso errore di Raduc ha regalato il gol il vincente del Bologna e da lì quindi le cose sono tornate nelle mani del Milan che dopo i due pareggi per 0-0 contro Bologna e Torino è tornata a vincere tre gare consecutive tutte e tre in maniera meritata e diciamo anche tanto discussa anche se l'ultima due un po' meno cioè il 2-0 con il Genoa il 2-1 con la Lazio e poi l'1-0 con la Fiorentina e soprattutto le ultime due gare erano tutt'altro che scontate perché erano contro due avversari comunque discretamente discretamente forti e credo che queste due gare soprattutto abbiano fatto vedere per l'ennesima volta come questa squadra abbia principalmente tre stelle polari cioè Magnani in porta con la Fiorentina ha fatto una grandissima parata su Cabral sul topo di testa di Cabral Tonali in mezzo al campo che con la Lazio ha giocato una prestazione straordinaria anche con la Fiorentina ha giocato una buona gara e poi ovviamente Raffa Leao là davanti che ha segnato il gol del 1-0 col Genoa è stato il migliore in campo contro la Lazio facendo la differenza e asfaltando la fascia sinistra saltando quasi sempre il diretto avversario e poi ha segnato il gol decisivo contro la Fiorentina in una partita in cui il Milan aveva fatto meglio dei Viola però la gara avvicinandosi verso la fine sembrava sembrava in bilico e invece Leao con il suo gol l'ha decisa ora al Milan bastano sette punti per vincere il campionato nelle prossime tre gare e insomma questo campionato ci ha fatto vedere tantissime volte come le cose possono cambiare all'improvviso e penso che ognuno di noi abbia cambiato idea almeno quattro o cinque volte su chi l'avrebbe vinto però credo sia abbastanza oggettivo dire che poiché al Milan basta fare sette punti tra la gara col Verona quella con l'Atalanta in casa e poi l'ultima col Sassuolo fuori casa ecco sia sicuramente favorito anche se ripeto tutto può succedere quindi mai dire mai e potrebbero esserci colpi di scena ancora diciamo che Cagliari e Sampdoria senz'altro hanno in questo momento più obiettivi più cose in palio rispetto a Verona a Sassuolo quindi appunto da questo punto di vista il Milan potrebbe avere un po' un piccolo vantaggio e comunque c'è da dire anche che il Milan con questo vantaggio di due punti si può anche permettere paradossalmente di sbagliare una partita cioè il Milan potrebbe tranquillamente pareggiare anche una di queste tre perché comunque sarebbe anche in vantaggio con l'Inter per quanto riguarda poi gli sconti diretti hai detto bene prima l'Inter sembrava essersi abbastanza ripresa sembrava aver ritrovato fiducia secondo me anche grazie all'inserimento di Marco sulla stessa sinistra lui e Pelic hanno dato anche un po' di fluidità alla manovra l'Inter che appunto è tornato a essere brillante trascinato ovviamente anche da Brozovic che nelle ultime giornate si è fatto notare soprattutto per il contributo anche in zona in zona diciamo zona golla però la partita col Bologna diciamo è stato un po' un passo indietro per questa squadra anche perché Brozovic è stato spesso marcato a uomo da bar non è riuscito a incidere come al solito Perzic è stato sì determinante ha segnato il primo gol però è stato appunto un Inter che non è riuscito a prendere ritmo e che si è pian piano spenta anche i cambi che ha fatto Inzaghi secondo me sono stati abbastanza confusionali però comunque l'apporto delle punte non è stato proprio brillantissimo nonostante comunque l'Altaro queste ultime giornate abbia ripreso a segnare con una certa regolità diciamo da dopo il derby in Coppa Italia col Milan sembrava essere comunque in crescita in fiducia da questo punto di vista magari senza fargli battere i rigori eh sì quello può avermi inciso invece come hai detto te adesso il Milan è padrone del proprio destino Mignan sicuramente si delinea come l'MVP di questo campionato anche se il Milan non dovesse eventualmente vincere il campionato perché comunque le sue parate la sua presenza è stato un fattore incredibile e poi anche le Aucchi magari sarà un po' calato rispetto alla prima parte di campionato però comunque i suoi stappi le sue giocate l'asse Leao-Teo è assolutamente imprescindibile per il Milan a maggior ragione con le difficoltà che stanno avendo altri giocatori come Brian Diaz che ha fatto una partita secondo me molto brutta con la Fiorentina perché ha sbagliato tanto a livello di ultimo passaggio a livello di scelta perché come smarcamenti ha fatto anche abbastanza bene anche Junior Messias non è che sia dando chissà chi apporto poi Giroud è vero che ha segnato nei big match però secondo me anche il suo apporto comunque per quanto riguarda le altre fasi di gioco lavorare di sponda è piuttosto rivedibile quindi da quel punto di vista il Milan mi sembra un po' contato come soluzione offensiva certo però è una squadra molto solida perché la coppia Tomorica Luluf in cui ha funzionato bene è appunto una squadra che magari pur non riuscendo a segnare molti più gol rispetto all'avversario comunque riesce abbastanza bene a tenere le partite in controllo quindi vedremo credo che comunque le prossime tre avversarie siano avversarie tutta alla portata del Milan anche per le proprie caratteristiche perché ad esempio l'Atalanta sono squadre che giocano molto sull'uomo che giocano in campo lungo e il Milan è una squadra che si esalta in campo lungo anche il Sassuolo comunque è una squadra propositiva che lascia campo quindi mi aspetto comunque in queste tre gare il Milan trova i spazi per rendersi pericoloso appunto in campo aperto come ha fatto vedere anche con la Fiorentina nella scorsa giornata e Pioli l'ha sempre preparata bene le gare quest'anno contro le squadre che si orientano sull'uomo abbiamo visto spesso e volentieri Teo, Hernandez e Calabria cioè due terzini venire a giocare dentro il campo per cercare di mettere in difficoltà l'orientamento il sistema orientato sull'uomo degli avversari aveva funzionato molto bene per esempio nella gara di andata proprio contro l'Atalanta ma anche mi ricordo nella gara di Cagliari ormai sarà passato un mese e mezzo insomma Pioli l'ha preparata sempre bene hai fatto bene anche a sottolineare le gare o meglio l'ottimo momento di forma di Tomori e Calulu vabbè Tomori sta facendo benissimo da quando è arrivato al Milan Calulu invece davvero una grandissima sorpresa in questi in questi ultimi mesi sì mi viene da dire che sembra la liga dello scorso anno perché appunto c'era stato un momento in cui l'Aledico Madrid che era un po' l'outsider rischiava di essere superato dal Barcellona che doveva recuperare una partita e mezzo alla settimana con l'Iranata in casa sembrava tutto fatto per il sorpasso del Barcellona che però perse in casa in rimonta tra l'altro contro l'Iranata e l'Aledico è rimase davanti quindi mi sembra un po' la stessa situazione che si è andata a delineare quest'anno con l'Inter che ha perso contro il Bologna ha mancato il sorpasso e per questo insomma arrivati a queste ultime tre giornate sicuramente la favorita è il Milan visto che ha due punti di vantaggio nonostante abbia un calendario più complicato però come ricevi notare giustamente te appunto le partite che ha contro Adalanta e Verona possono essere favorevoli per il tipo di gioco che ha mostrato il Milan durante questo campionato secondo me un po' il punto di svolta è stata la giornata in cui le milanesi hanno incrociato le romane perché prima nel sabato l'Inter ha abbattuto nettamente la Roma sembrava l'ultimo grande avversario per l'Inter prima di chiudere la sua cavalcata triunfale verso lo Scudetto e poi ha perso contro il Bologna mentre il Milan doveva giocare fuori casa dopo anche l'Inter una partita molto molto difficile con la Lazio e dopo essere andata in svantaggio di una rete è riuscita a pareggiare e poi a vincere all'ultimo minuto quel gol secondo me ha spostato molto gli equilibri psicologici del del campionato proprio perché il Milan ha dimostrato di essere viva di credere allo Scudetto e ha messo una grandissima pressione all'Inter che poi ha sbagliato la gara di Bologna ecco devo dire il Milan mi stupiva l'anno scorso mi ha stupito quest'anno soprattutto per la capacità di integrare in questo sistema di gioco tutti tutti coloro che vengono messi in campo perché se Magnan Leao Tevernandez Tomori stanno facendo delle stagioni straordinarie e giocano da inizio anno su questi livelli il fatto che Calulu insomma appunto il fatto che i giocatori come Calulu entrino in campo per poche partite o comunque nel momento decisivo dell'anno spodrino prestazioni di altissimo livello va dato sicuramente merito a Pioli ma va dato merito a tutta tutta una squadra che evidentemente li rede chiede ad un obiettivo e che sta dimostrando di veridarselo tra l'altro quella giornata di cui parlavi poco fa con le due milanesi contro il due romane è stata decisiva anche perché il Napoli ha perso con le Empoli e insomma ha detto addio definitivamente alle sue possibilità per lo scudetto quindi è stata una giornata importantissima anche per per quell'aspetto lì vedremo vedremo un po' cosa succederà sicuramente è una volta a scudetto molto molto bella molto divertente molto interessante con due squadre che non sono perfette rispetto magari a City e Liverpool che sta facendo cose straordinarie in Premier sicuramente le due milanesi sono squadre nettamente meno forti però non per questo la lotta non è divertente anzi la rende anche forse più più improvvedibile e vedremo un po' cosa succederà un'altra gara che è stata o meglio un'altra cosa che è stata molto imprevedibile è stata la gara giocatasi ieri sera la semifinale di ritorno tra Villareal e Liverpool finita 2 a 3 per la squadra di Klopp una partita in cui nel primo tempo il Villareal ha essenzialmente fatto a Liverpool quello che Liverpool aveva fatto al Villareal nella gara nella gara di andata cioè l'ha totalmente asfissiato la squadra avversaria con un pressing altissimo in questo caso piuttosto orientato sull'uomo che non ha permesso alla squadra di Klopp di risalire il campo di gestire il pallone e di arrivare poi con facilità al tiro il Villareal ha pressato davvero molto molto bene e poi quando ha avuto il pallone è riuscito a creare le chance 2 anche abbastanza grosse con cui poi appunto ha segnato ed è andato sul 2 a 0 poi nella ripresa è cambiato tutto perché da una parte Klopp ha inserito Luis Diaz che ha avuto un impatto straordinario sulla gara dall'altra sicuramente il ritmo e l'intensità del pressing del Villareal è calato e quindi la squadra si è abbassata non è riuscita più ad accorciare in avanti come invece aveva fatto benissimo nel primo tempo e poi il Liverpool è riuscito a consolidare meglio il possesso a pescare alcuni giocatori con più facilità penso per esempio a una bicchetta nel mezzo spazio destro tra le linee penso soprattutto all'Alexander Arnold che nel primo tempo non aveva avuto libertà mentre la ripresa ne ha avuta ed è riuscito a fare la differenza con i suoi passaggi i suoi campi gioco verso sinistra i suoi cross come ovviamente l'assist per Luis Diaz con un cross col piede debole un cross perfetto ma ripeto col piede debole col mancino e quindi il Liverpool poi l'ha ribaltata e alla fine ha vinto questa gara con un secondo tempo davvero dominato dove il Real non ha mai tirato e diciamo che sicuramente la squadra di M riesce a testa alta perché aveva un avversario ben più ostico rispetto al suo livello però nel primo tempo era riuscita a riequilibrare la semifinale portando il risultato sul 2-2 totale poi però nella ripresa si è sciolta ma ripeto contro una squadra nettamente più forte e quindi tanto di cappella la squadra di Emery che ha fatto un percorso e una competizione di altissimo livello sì Emery aveva promesso che al ritorno avremmo visto un Villarreal diverso e in effetti è stato un Villarreal piuttosto sorprendente per 45 minuti perché è sì vero che è una squadra alla fine elastica in termini di interpretazione però una squadra così elastica forse non l'avevamo mai vista cioè io in questa competizione non ricordo un Villarreal così aggressivo forse solo contro l'Atalanta la prima giornata non ricordo appunto un Villarreal capace di tenere il campo così bene capace di esercitare un netto dominio territoriale Albiolo è stato strepitoso nel primo tempo anche nelle poche situazioni in cui il Liverpool diciamo provava a ripassare questo pressing alto andando subito in profondità sul tridente è stato molto bravo a tenere la linea anche a recuperare in alcune situazioni mi è piaciuto anche il fallo tattico ha fatto tre falli nel primo tempo sì anche la gestione dei falli tattici anche Capoue comunque nonostante l'espulsione nel finale ha giocato piuttosto bene e proprio diciamo Capoue è stato sensato fondamentale su due gol mi è piaciuto anche lo scaglieramento del Villarreal in fase di possesso perché è andato a occupare posizioni e ha fatto alcune rotazioni che hanno messo in difficoltà i due terzini del Liverpool soprattutto Robertson che a livello difensivo ha giocato malissimo che è una delle sue peggiori prestazioni da questo punto di vista da quando è a Liverpool e il piano gara appunto del Villarreal era mettere Coquelin e Lucial sotto le linee e questo ha impedito ai due terzini di accorciare in avanti perché spingeva molto con Stupignano a sinistra anche Admoreno poi si apriva sulla destra anche Capoue in alcune situazioni è andato largo sulla destra diciamo a dare ampiezza quindi queste rotazioni questa fluidità che c'è stato ha messo sicuramente in crisi il Liverpool però come un buon Liverpool che ha reggito da grande squadra non è la prima volta che vediamo il Liverpool in difficoltà in trasferta in Champions anche nelle precedenti edizioni però comunque per la prima volta cioè per la prima volta diciamo il Liverpool che ha confermato la sua crescita in questi anni e soprattutto in questa stagione cioè di essere una grande squadra una squadra con una grande forza mentale che di fatto è ripartito come se la partita fosse 0-0 ha ripreso a macinare gioco ha ripreso a controllare la partita chiaramente anche favorito dal calo fisico netto del Viglialto perché chiaramente la squadra di M non poteva reggere quell'intensità per 90 minuti è sicuramente uscito fuori alla distanza certo anche con la compi stati Rulli in occasione dei gol e tra l'altro la cosa anche sorprendente è che Rulli diciamo non abbia fatto cappellate nelle partite precedenti a questa questo è un po' il suo storico però comunque il Liverpool che secondo me ha vinto con merito l'impatto di Lewis D'Hals l'abbiamo già detto in altre puntate è fenomenale cioè un giocatore così diretto così deciso nel puntare l'avversario nel creare insidie è un qualcosa che secondo me mancava al Liverpool sicuramente dà molta più intravvedibilità alla scuola di Klopp Marco? a me ha impressionato molto il Liverpool chiaramente insomma come in altre partite mi viene in mente anche l'andata a San Siro contro l'Inter perché appunto usciti dall'intervallo sarà un'altra partita sostanzialmente anche Klopp l'ha detto che nel primo tempo c'erano state insomma grandissime difficoltà che sono state sotto gli occhi di tutti ma il Liverpool è riuscito appunto a superarle da grandissima squadra che qual è e insomma ha fatto sostanzialmente tre gol al Villareal ribaltando tutto secondo me insomma la chiave un po' è stata anche Fabinho la chiave di questa rimonta è stata anche Fabinho che nel primo tempo è stato schermato in fase offensiva insomma in fase di costruzione dell'azione e in fase difensiva veniva sempre messo in mezzo tra Cochrane e Lo Celso perché appunto il Villareal riusciva a costruire in mezzo al campo con quattro giocatori Capù Parego Cochrane e Lo Celso mentre invece il Liverpool stava solo con i tre centrocampisti in mezzo quindi stava in inferiorità Fabinho ecco nel secondo tempo soprattutto in fase offensiva si è sganciato molto di più e di fatti poi l'azione del gol è abbastanza esemplificativa riceve palla scarica su Salah e poi si butta nello spazio che si crea con Salah che si allarghi e riesce ad arrivare alla conclusione e poi al gol quindi insomma secondo me mi ha impressionato molto il Liverpool ma mi ha impressionato anche molto questo Villareal chiaramente perché nel primo tempo giocare con con questa linea così alta contro il Liverpool che è una squadra una delle migliori squadre ad attaccare in campo aperto e che può veramente far male a qualsiasi formazione in quella situazione è stato coraggiosissimo da parte di Emery ma anche molto molto ben organizzato perché appunto tutta la squadra si è mossa con un solo uomo con un blocco compatto facendo grandissima densità in zona palla e andredendo molto bene gli attaccanti nel Liverpool e appunto insomma questo Villareal mi ha impressionato chiaramente durante tutto l'arco di questa competizione ed è stata una bellissima è stata una bellissima sorpresa anche se comunque seguendo il Villareal un po' tutto l'anno anche anche l'anno scorso si nota e si apprezza come questa squadra sia stata costruita già dall'anno scorso in questo modo quindi è una fortissima identità di gioco che in questa campagna di Champions non si è snaturata neanche di fronte ad avversari molto più forti come il Liverpool il Bayern Monaco ma anche contro la stessa Juve tra l'altro se c'è qualcosa per cui Emery può avere un po' di rammarico è il fatto di non aver mai giocato in questa semifinale con Dani Uma e Gerard Moreno in campo contemporaneamente assieme perché all'andata c'era solo Dani Uma visto che Gerard Moreno era infortunato e ieri c'era soltanto Gerard Moreno visto che era infortunato invece Dani Uma tra l'altro Gerard Moreno è stato in campo poco più di metà partita visto che non era non era il meglio che aveva recuperato proprio all'ultimo per giocare non credo che sarebbe cambiato qualcosa nella qualificazione finale però sicuramente sarebbe potuto essere un Villarreal più pericoloso visto che alla fine l'unico tempo in cui è stato pericoloso sui quattro che ha giocato contro Liverpool è stato il terzo cioè il primo tempo di ieri sera mentre all'andata e nel secondo tempo di ieri sera non è stato per nulla pericoloso e a proposito di partite imprevedibili ecco quella di cui parliamo ora è stata la cosa forse più imprevedibile vista in questa stagione perché insomma col Manchester City sopra 1-0 penso che nessuno si aspettasse un Real che segnasse due gol nel giro di due minuti e poi passasse passasse il turno con ovviamente il gol del 3-1 di Benzema su calcio di rigore insomma l'ennesima sorpresa di questa Champions League che ricordo secondo alcuni togliendo la regola dei gol fuori casa la Champions sarebbe dovuta diventare più noiosa beh direi che è successo esattamente l'opposto viste quante bellissime partite imprevedibili abbiamo assistito in questi mesi comunque cercando di mettere un po' in ordine le cose cercando di dare un po' un senso a quello che abbiamo visto poco fa quali sono state secondo voi le chiavi di questa clamorosa rimonta direi innanzitutto che a livello difensivo il Real ha approcciato decisamente meglio ed è riuscito a tenere per gran parte dell'incontro la partita in equilibrio creando anche qualcosa in più forse come occasioni come qualità delle occasioni è stato un Real che per l'occasione si è disposto con questa formazione ibrida una sorta di 4-4-1-1 barra 4-2-3-1 a seconda dell'altezza di Valverde Vinicius in fase di pressing però comunque caratterizzato dalla presenza di Motic sotto punta che seguiva praticamente a uomo Roddy anche se in alcune situazioni usciva anche sulla porta e tra l'altro Motic anche in fase di possesso è rimasto in una posizione piuttosto avanzata quasi da trequartista è stata una partita devo dire per una settantina di minuti buoni senza grossi sussulti poche occasioni relevanti dove comunque le due squadre si sono abbastanza annullate da questo punto di vista diciamo c'è stata anche un po' di imprecisione tecnica perché nessuno diciamo dei big è riuscito a fare qualche giocata eliminante a parte Bernardo Silva che fino all'ottantasettesimo era il mio MVP per questo incontro comunque lui ha giganteggiato in mezzo del campo sicuramente poi ha anche propiziato molto bene l'azione del gol di Marez però appunto è stata una partita in grande equilibrio forse qualcosa di real come spunto l'aveva lasciato intravedere con Vinicius a inizio ripresa c'è stata quell'occasione tramorosa che lui si è divorato che ha ricordato un po' il Vinicius degli anni scorsi esatto però sicuramente è stata una partita in equilibrio anche perché tutto sommato Walker che non era al meglio diciamo ha letto bene in velocità recitò abbastanza bene a contenerlo e niente poi quello che è successo dopo il gol di Rodrigo era dell'inspiegabile cioè Real che di fatto non muore mai e di colpo porta tutta l'inerzia della partita a suo favore e poi nel secondo tempo sperimentale si è giocato pochissimo ritmi molto spezzettati diciamo che Real l'ha controllata bene e alla fine diciamo con merito ha passato questo turno a me invece è piaciuto molto poco il City insomma il Guardiola non sarà per nulla contento della sua squadra in particolare mi è sembrato un City che non volesse come al solito attaccare segnare ma piuttosto conservare il palleggio perdere tempo insomma anche nel primo tempo abbiamo visto Ederson che impiegava molto tempo per inviare dal fondo insomma i giocatori che perdevano tempo qua e là segno che c'era anche una certa tensione quindi secondo me secondo me prima di tutto è stato il City che non ha non ha giocato una grandissima partita come all'andata e che ha un po' speculato forse sul risultato e e poi appunto l'ha pagata perché secondo me si è seduto un po' nel finale ed è stato recuperato secondo me anche dopo il gol di Benzema dopo i regori quindi dopo che Real Madrid è passato in vantaggio il City non ha avuto una una grande reazione e va bene che eravamo dei supplementari va bene che si giocava da oltre 90 minuti però mi sarei aspettato qualcosa in più mi sarei aspettato qualcosa in più da parte del City per quanto riguarda il Real Madrid io vorrei sottolineare un'altra volta l'ennesima volta i cambi di Ancelotti che hanno letteralmente cambiato la partita perché appunto Rodrigo è entrato ha fatto una doppietta ma anche Kamavinga poi alla fine ha cambiato la situazione come era successo tra l'altro col PSG quando il suo ingresso aveva dato una svegliata alla squadra ed è successo anche anche in questo caso ha rilevato Modric e rilevare Modric non è mai una mossa diciamo non è mai semplice rilevare Modric ma in realtà il giovane francese non l'ha fatto per nulla rimpiangere sì è sorprendente che quando il Real ha fatto la rimonta in generale quando ha giocato meglio è stato quando non c'erano né Cross né Casemiro né Modric cioè tutti e tre erano out già magari altre volte in questa Champions League il Real ha rimontato però almeno uno dei tre se non ricordo male c'era sempre in campo a volte anche due per esempio cos'era col Chelsea aveva tolto Cross ma Modric in campo c'era insomma non era mai successo se non sbaglio ripeto una cosa del genere comunque sì assolutamente grandissimo impatto di Rodrigo nei gol e in generale anche nel lavoro difensivo secondo me e poi ovviamente Camavinga che ha preso per mano il centrocampo ed è stato davvero fondamentale soprattutto ovviamente nell'azione del rigore guadagnato da Benzema col fallo di Rubendias tra l'altro Rubendias che aveva iniziato secondo me discretamente bene la gara ma poi andando avanti la giocata in maniera disastrosa dall'altra parte invece credo che i cambi di Guardiola non abbiano funzionato con Charlie discutevamo prima in chat durante la partita come mai Guardiola non togliesse Marez che insomma stava giocando malissimo e a quanto riportavano da bordo campo Guardiola era anche bello incazzato per come stava giocando l'Algerino e quindi ci chiedevamo perché non lo toglie se non ti piace come sta facendo e invece poi l'ha tenuto ma insomma l'ha tenuto e l'ha fatto bene perché poi Marez ha segnato il gol del 1-0 tra l'altro il 24esimo gol stagionale per l'ala destra che è il capo canoniere del City in questa stagione anche se va detto che ha battuto la maggior parte dei rigori quindi anche per questo che ha segnato tantissimo detto ciò comunque tornando a quello che stavo dicendo anche i cambi non è che abbiano funzionato perché si Gundogan è stato importante nell'azione del gol poi però è un po' sparito Zinchenko l'ho visto un po' in difficoltà a tenere ritmi degli avversari Grealish secondo me a livello di gioco cioè a livello di quando era in possesso del pallone non ha fatto male però poi ha sbagliato quelle due grandissime occasioni quando il City era in vantaggio 1-0 e poi c'è stato l'ingresso disastroso perché non si può definire l'altro modo di Sterling che ogni volta che è entrato in possesso del pallone ha provato sempre la solita giocata allungarsena dove non c'erano spazi poi fare il tuffo a terra con ovviamente Orsato che non gli ha mai fisiato fallo e quindi insomma un ingresso davvero disastroso però anche gli altri giocatori offensivi del City che c'erano in campo prima dei cambi non è che abbiano fatto bene perché secondo me Foden ha giocato una gara insufficiente ha perso all'incirca il 35% dei palloni che ha toccato De Bruyne non l'ho visto per niente bene anche se aveva iniziato discretamente muovendosi bene ai lati di Casemiro ma poi è sparito e Gabriel Jesus forse del tridente titolare è stato quello che ha fatto meno peggio però non è che abbia fatto chissà cosa insomma dei giocatori di maggiore qualità del City l'unico che ha giocato una grande partita come diceva Charlie è stato Bernardo sì gli scorsi che ha fatto Marco comunque sullo spirito un po' più conservatore del City è vero perché non hanno avuto mai questa frenesia di andare a dominare la partita probabilmente anche consci comunque della forza del Real perché giocando anche al Bernabeu anche Memori magari di quello che è successo al Wanda Metropolitano c'era questa idea di non scoprirsi troppo perché comunque una squadra come il Real con Vinicius e Benzema al Bernabeu soprattutto ti può fare molto molto male sì come ha detto anche Gab i cambi diciamo fino al gol di Rubigo avevano avuto un discreto impatto perché comunque il City ha avuto un paio di altre occasioni per segnare gol 2-0 ancora una volta c'è stato purtroppo fondamentale su quel tiro incrociare di Grivis ma anche Mendy comunque con quel salvataggio sulla linea senza senso anche questi piccoli episodi il Real comunque è sempre riuscito a far girare l'inizio della partita della sua e poi nel finale è anche una un po' inaspettata però con un bel cross tra l'altro di Carvajal che secondo me non ha giocato una grandissima partita però comunque in quelle azioni sicuramente si è fatto valere perché ci ha propiziato anche con dei bel cross l'assalto finale e poi appunto il Real che è uscito fuori dalla distanza diciamo un grandissimo traguardo adesso per la scuola di Ancelotti e sarà molto molto interessante secondo me vedere la finale proprio perché sono due squadre che anche se in maniera molto diversa come atteggiamento o come identità di gioco hanno dimostrato nell'arco di questa competizione di riuscire comunque a piegare sempre gli episodi dalla loro parte anche se diciamo questo è un discorso che sicuramente vale molto più per il Real visto anche chi ha affrontato e come è passato piuttosto che per il Liverpool che comunque ha avuto un sorteggio un percorso complessivamente morbido possiamo dirlo sicuramente rispetto a quello del Real è stato più più morbido però ecco non credo che il girone sulla carta del Liverpool fosse facile anzi se ci ricordiamo quello che dicevamo all'inizio settembre il Liverpool aveva beccato un girone di ferro anche se poi l'ha dominato vincendo tutte le partite e beccare l'Inter tra le squadre che erano nella seconda fascia agli ottavi ok non era un sorteggio difficile però ecco non era nemmeno un sorteggio facilissimo ecco c'erano squadre più abbordabili sulla carta ovviamente beccare il Benfica e Villareal ai quarti e semifinali invece lì si sicuramente ha affrontato le due squadre che erano sulla carta più agevoli tornando alla gara io credo che questa partita abbia dimostrato per l'ennesima volta oltre come Real dal punto di vista mentale non esca mai dalla gara e quindi riesca ormai dobbiamo dirlo sempre a ribaltarla va detto che anche dal punto di vista fisico la squadra di Ancelotti è sempre al top perché insomma anche i giocatori che erano in campo dal primo minuto comunque poi nella finale di gara e nel primo tempo supplementare molti di loro correvano e giocavano alla grande e in questo sicuramente va dato merito anche al preparatore atletico dei Blancos cioè Pintus che ormai è credo il preparatore atletico più famoso al mondo visto quanto successo hanno avuto le squadre in cui ha lavorato cioè il Real di Zidane negli anni passati e poi anche l'Inter di Conte e niente dicevo questo sicuramente è stato anche un altro aspetto da sottolineare così come ovviamente non l'abbiamo detto ma Courtois in porta è stato decisivo per l'ennesima volta in questa stagione con la parata su Bernardo Silva e poi anche nel primo tempo supplementare con la parata sul colpo di testa di Foden su cui poi Fernandinho sulla ribattuta non è riuscito a segnare nell'unica grossa occasione che il City ha avuto nei tempi supplementari e poi anche Benzema che è una partita diciamo normale da sei sei meno comunque inizialmente poi ha piazzato l'assist per il primo gol di Rodrigo e anche il gol è battuto con grande freddezza come quella d'andata tra l'altro dopo due rigori consecutivi che aveva sbagliato in campionato quindi comunque da questo punto di vista Karim Dedrim è stato nettamente all'altezza nei momenti decisivi leggevo prima 15 gol nella sua Champions a fronte di circa 5,4 xG cioè ha segnato tre volte tanto poco meno di tre volte tanto i suoi expected goals e se non ero adesso con questo gol ha raggiunto il record di Ronaldo per gol segnati nella fase di una sola competizione sì direi direi di sì se non sbaglio l'ho sentito dire l'ho sentito dire anche io un'ultima nota diciamo più più simpatica a lato prima su Twitter ho visto che è rispuntata se vi ricordate quell'intervista che fece il procuratore di Ayatouret in cui disse che Guardiola non avrebbe mai vinto mai più vinto la Champions League a causa di una maledizione africana vedremo come andrà la finale di Champions però al di là di questo sicuramente la stagione del Real è assolutamente positiva anche grazie alla vittoria della Liga la 35esima volta che il Real Madrid ha vinto il campionato spagnolo Ancelotti è diventato il primo allenatore della storia a vincere tutti e 5 i top 5 campionati europei quindi Serie A Bundesliga Premier League Ligan e appunto Liga tra l'altro questa statistica ovviamente è clamorosa perché rende benissimo l'idea del grandissimo allenatore che Ancelotti è stato e ancora è però è anche interessante far notare come Ancelotti abbia vinto soltanto una volta tutti e 5 questi campionati cioè non ha mai fatto la doppietta non è mai riuscito a vincerlo a vincerli per una seconda volta e insomma anche questo spero sia interessante ma al di là di ciò volevo chiedervi partire con una domanda fondamentale cioè quanto è figo Ancelotti nella foto con il sigaro in bocca e gli occhiali tamarrissimi lui ha un sacco di stile e questa immagine è abbastanza semplificativa della stagione del Real Madrid anche perché se si pensa a come era partita ovvero con Sergio Ramos e Baran che erano stati ceduti quindi la coppia difensiva che era stata smantellata con Zidane che se n'era andato e con Ancelotti che era tornato dopo un'esperienza tutt'altro che positiva all'Everton dove ormai sembrava avere imboccato una chino discendente un Real Madrid un po' in smobilitazione che sembrava dover attraversare una stagione di transizione con Florentino Perez che stava raccogliendo disperatamente soldi per lanciare l'assalto a Mbappé e invece Ancelotti si è trovato tra le mani un materiale comunque eccellente perché poi alla fine ne parliamo di grandissimi campioni ma è riuscita a mettere insieme una squadra che ha dominato poi in campo nazionale ecco diciamo una squadra che ha dominato in campo nazionale bisogna dire che rispetto al campionato dello scorso anno è stata una Liga di livello decisamente inferiore perché appunto l'Atletico che era favoritissimo non è mai stato in gioco il Barcellona idem il Sevilla non è mai stato un avversario comunque che potesse in qualche modo impensierire il Real però ciò non toglie che questa è stata una stagione eccellente da parte del Real anche e soprattutto perché Ancelotti ha utilizzato quasi sempre gli stessi giocatori il Real Madrid è una delle squadre che utilizza di meno i sostituti e i titolari alla fine sono sempre stati quelli quei 7-8 giocatori quindi Courtois in porta Alaba e Milita in difesa il trio di centrocampo con Kroos Casimir e Modric e Benzema e Vinicius in avanti gli unici dubbi erano sulle fasce in difesa dove Carval e Mendy che sarebbero dovuti essere i titolari hanno avuto diversi problemi fisici e l'esterno destro alto dove appunto ci sono alternati Premasenzio Vasquez Rodrigo che appunto quest'ultima parte di stagione poi è esploso e quindi secondo me un gran merito va dato a Lancelotti che è riuscito a tenere insieme il gruppo che è riuscito anche in alcuni momenti difficili mi vengono in mente per esempio la sconfitta contro l'Espagnol a Ottobre che poi ha lanciato un po' quella serie di vittorie decisive per guadagnare il vantaggio quel grande vantaggio prima di Natale ma anche poi dopo il classico di ritorno dove Real perde 4-0 chiaramente il titolo non è troppo in discussione perché i punti di vantaggio erano 9 in quel momento però comunque potrebbe essere un contracolpo psicologico molto importante per la squadra quindi Ancelotti è riuscito sempre a tenere la barra dritta e poi il resto hanno fatto questi straordinari talenti individuali tra tutti appunto Benzema Benzema ha fatto la miglior stagione della sua carriera in Liga perché con 4 partite ancora da giocare ha già segnato 26 gol e quindi è la miglior stagione a livello realizzativo in campionato Vinicius ha fatto la sua miglior stagione a livello realizzativo tra l'altro Benzema ha segnato tutti i suoi gol dall'interno dell'area di rigore e appunto insomma poi secondo me va sottolineato anche il grandissimo impatto di Courtois che è stato il giro portiere della stagione ha salvato sì sì ha salvato insomma le partite del Real in moltissime circostanze e anche oltre appunto al trio di centrocampo su cui non spenderò parole ma anche volevo sottolineare la stagione di Militao che negli ultimi tempi anche in Champions abbiamo visto che ha fatto degli sbarioni piuttosto clamorosi ma nella prima parte di stagione quella poi dove il Real ha effettivamente preso il vantaggio in lì è stato insomma ai limiti della perfezione e non era banale perché doveva sostituire due mostri salchi come Sergio Ramos e Barani tra l'altro prima citavi la gara con l'Espagnol mi ricordo che dopo quella partita lì Ancelotti non mi ricordo se era un'intervista post partita o una conferenza stampa con tutti i giornalisti aveva detto che al Real serviva più più intensità nel pressing si arriva a giocare con maggiore intensità e poi però non è che abbiamo visto un Real giocare con maggiore intensità nel pressing abbiamo visto un Real difendere in maniera un po' diversa nel senso che se prima Ancelotti voleva implementare un pressing aggressivo che portasse una riconquista immediata del pallone poi in realtà in fase di non possesso abbiamo visto un Real non sempre ovviamente però spesso si difendersi più basso cercare non di riconquistare la palla nella metà campo avversaria ma di riconquistarla poi nella propria per una volta recuperata andare in verticale verso Benzema che viene incontro o verso Vinicius che a volte viene incontro con i piedi vicino alla linea laterale altre volte invece attacca la profondità e poi quindi un Real che può attaccare con campo a disposizione sappiamo benissimo come questi due siano fortissimi in situazioni di questo tipo io credo che in assoluto Benzema sia stato la MVP di questa Liga perché ha avuto un'importanza e un impatto straordinario nei risultati della propria squadra però sicuramente anche Vinicius ha fatto un gran campionato ed è sicuramente uno dei principali meriti di Ancelotti in questa stagione perché ricordiamo come il Vinicius negli anni passati fosse un giocatore che sottoporta sbagliava dei gol clamorosi quest'anno invece ha avuto una crescita notevole tant'è che ha segnato in campionato 14 gol a fronte di 11,2 X-Petal goals quindi ha overperformato XG di circa 3 e è un giocatore che tra l'altro a proposito dei suoi miglioramenti se gli anni scorsi o meglio l'anno scorso il suo rapporto con Benzema era tremendo perché i due quasi quanto sembrava non andavano granché d'accordo e c'erano stati problemi come ricordiamo in quella quella volta in cui Benzema nel tunnel per entrare in campo tra il primo e secondo tempo se non ricordo male a Mönchengladbach di una gara di Gironi di Champions disse a se non ricordo male Mendy di non passare il pallone a Vinicius perché poi la perdeva sempre ecco quest'anno abbiamo visto un rapporto interpersonale tra i due credo foil al campo ma soprattutto poi ovviamente dove conta in campo crescere tantissimo e i due hanno creato una connection fondamentale per raggiungere questo gran traguardo eh sì è stato proprio l'asse Vinicius Benzema alla finale decida del campionato mi è piaciuto il fatto che comunque avete sottolineato le ottime parate di Courtois perché di fatto in quasi ogni vittoria del Real c'è stata almeno una grande parata del Berger comunque diciamo dopo il primo anno un po' complicato si è stessato anzi è tornato diciamo a rendere a livelli molto alti secondo me anche la stagione di Alava tutto sommato è positiva c'è la curiosità sicuramente per vedere dove sarebbe stato impiegato quando è arrivato la scorsa estate dal Bayern e quest'anno ha giocato per lo più come centrale difesa anche se in qualche situazione è stato adattato a terzino è chiaramente un giocatore che in fase di costruzione aiuta molto la squadra è bravo a far diciamo eludere il pressing ha qualche limite qualche pecca a livello difensivo però comunque per buona parte della stagione sicuramente la coppia la primitività ha funzionato piuttosto bene e comunque mi sembra che il Real anche col passato del settimane sicuramente ha guadagnato in solidità perché nella primissima fase di stagione è una squadra che oltre ad avere difficoltà anche nel pressing aveva proprio difficoltà anche nel difendere diciamo più basso invece nella fase finale abbiamo visto comunque una squadra che riusciva a contenere anche abbastanza bene gli avversari soprattutto nei big match e poi chiaramente bastava la qualità individuale di quei due davanti per amministrare e portare le partite diciamo al sicuro ecco al punto di vista del risultato quindi complimenti al Real complimenti a Ancelotti perché non è a scontato rilanciarsi dopo appunto una fase della sua carriera dove sembrava destinato magari non al declino però sicuramente alla mediocrità ecco in termini di obiettivi in termini anche di squadra a cui poteva ambire perché l'Everton comunque piazzamenti di metà classifica medio-bassa classifica diciamo non sono proprio il massimo per un attore con uno status storico come il suo però appunto ha riuscito sicuramente a rilanciarsi adesso magari il prossimo step sarà continuare a integrare e inserire i giovani che dovranno essere i volti del Real che verrà oltre a Vinicius chiaramente che è già lì vedremo verso il Mende anche Mbappé ma anche Camavinga Valverde giocatori che comunque quando hanno avuto spazio vedremo se arriverà Mbappé vedremo infatti vedremo ma appunto Camavinga Valverde giocatori che quando hanno trovato spazio hanno fatto vedere sicuramente di poter dare una ferra di poter dare qualcosa in più come caratteristiche rispetto agli eterni modici e cross c'è un'altra cosa secondo me interessante da citare cioè che il Real è la squadra che in assoluto nei top 5 campionati europei ha fatto più tiri in media partita con il passaggio precedente al tiro che è un cosiddetto cutback cioè quei cross che arrivano dal fondo arretrati verso la zona del dischetto in fase della muette esatto quello che faceva facevano molto bene Giordi Alba e Messi e insomma è stata la squadra che in media partita faceva più tiri ha fatto più tiri creando situazioni da questo tipo un'altra cosa che mi premeva a stolineare è il fatto che nella prima parte di stagione Marco Assensio era stato molto importante per il Real con alcuni grandi gol e alcuni anche molto decisivi per portare a casa i tre punti poi nella seconda parte di stagione come diceva giustamente prima Marco è venuto fuori Rodrigo e Assensio non ha più trovato grande spazio e quindi il titolare del Real in campionato è stato soprattutto il giovane brasiliano L'ultima cosa che volevo sottolineare è che appunto insomma abbiamo visto anche in Champions insomma anche in campionato un Real che spesso si è difeso anche basso per poi sfruttare le grandissime capacità di Vinicius e Benzema in campo aperto soprattutto di Vinicius però il Real leggevo questa statistica su The Athletic che è stata anche la squadra che effettua più passaggi per sequenza insomma quindi chiaramente visti i palleggiatori che ha è stata una squadra che ha saputo adattarsi alle partite ai momenti della stagione anche ai momenti della partita quindi secondo me anche questo è stato un po' un segreto del dominio di questa squadra e secondo me vado a merito a Ancelotti di questa adattabilità Senza dubbio è vero hai fatto benissimo a stolineare questo questo aspetto e per quanto riguarda Ancelotti io ero stato molto critico sulle sue ultime avventure non tanto quella dell'Everton che comunque insomma il suo l'aveva fatto ma per quanto riguarda quella col Napoli e quella col Bayern Monaco prima dove credo che avesse peggiorato le squadre rispetto ai suoi due predecessori cioè Guardiola al Bayern e Sarri al Napoli nonostante le rose a disposizione fossero state sostanzialmente invariate e invece va detto che quest'anno il Real ha fatto un grandissimo lavoro e insomma ha dimostrato un'altra volta di essere un allenatore molto bravo a prendere magari una squadra che non aveva una grossa identità tattica e quindi di riuscire a mettere i propri giocatori in campo nelle posizioni e con i compiti migliori per farli rendere bene e l'abbiamo visto soprattutto direi con Benzema e Vinicius ma non con solo loro insomma un allenatore che si è sicuramente rilanciato ed era una cosa tutt'altro che scontata ora vedremo un po' se riuscirà a trovare ciò che gli è mancato di più nella sua carriera cioè la continuità all'interno di un club perché a parte al Milan per il resto poi Ancelotti nei posti in cui è allenato è durato relativamente poco contrariamente magari a un Guardiola o a un Klopp o ad altri grandissimi allenatori che ci sono stati in questo periodo storico e quindi insomma sarà interessante vedere come andrà avanti ricordando che però si trova ad interfacciarsi con forse il presidente che chiede di più di tutti dei papelnatori e che insomma non accetta mai nemmeno il più piccolo sbaglio sto parlando ovviamente di Florentino Perez e questo Ancelotti lo sa già bene visto come era andata la sua prima esperienza a Real Madrid io direi che possiamo chiudere qua saluto Marco e gli auguro miglior fortuna con gli autobus romani nelle prossime giornate ciao Marco grazie grazie mille per l'invito grazie per gli auguri e arrivederci a tutti e ciao Charlie ciao ciao a tutti alla prossima ciao ci sentiamo la prossima settimana ciao a tutti